Ecco, da una parte abbiamo visto i nerazzurri, le due maglie di Carri da Letto e l'altra parte quella di Ambrosini, Maldini, nonché la Coppa dei Campioni, ha vinto da Milan e tra questi due importanti cimeri storici ne troviamo uno altrettanto importante di quello che è considerato uno tra i due più fuori giocatori del mondo, parliamo di Pelé e nel grande brasiliano abbiamo un pallone, addirittura autografato da lui, come potete vedere, e poco più in basso la maglietta del grande giocatore verde-oro che arriva addirittura dal film Fuga per la Vittoria che dice appunto la scritta, la maglietta usata da Pelé nel famoso film con firma autografata. Grazie.